Io non costruirò un omnibus per dei criminali. Oh, lo farete come, Bailey. Oppure faremo una visita alla vostra famigliola. Lasciateli stare! Ehi! Eseguiamolo! Eseguimolo! Ehi! Ehi! Ah! Oh! Ecco! Ah! Viscale! Ah! Piano! 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 Respirate! Sono lontano! Non capite? Ho dei figli! Eh! Ditemi cosa vogliono i drivers da voi! La città è nel caos da quando la Hathaway Transport e la Miller colpano solo per dite! Senza nessuno a sostituirle, le parti decidono di tapparsi. Ben fatto, Jacob. Sono Ed Bailey, il solo costruttore di omnibus della città. Pretendono che lavori per loro. C'è gente onesta che vuol fondare una compagnia di trasporti. Come dico, America, dal popolo per il popolo? Questa è l'idea della London General Omnibus Company. E che si è? Annolato dell'Hattaway Transport. Ci serve per fondare l'azienda. Signor Bailey, sono Miss Fry. Consideratemi la vostra alleata. Forza! Cos'è stato? Scopriamolo! Cos'è stato? Scopriamolo! Cos'è stato? Cos'è stato? Già. In onda? Cos'è stato? Oh, no. 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 Oh, no.